Ciao Mimmi, benvenuti a un nuovo lavaretto creativo. Oggi vi mostrerò una tecnica per colorare. Ci serviranno matita, colla vinilica, diversi tipi di glitter e un cartoncino nero. Io l'ho scelto nero per una questione più estetica di impatto, ma va benissimo anche bianco. Iniziamo prendendo il cartoncino nero e con la matita andiamo a disegnare dei fuochi d'artificio. Adesso andiamo a ripassarlo con la colla vinilica. Io vi consiglio una con il beccuccio per essere più precisi. Adesso ci aggiungiamo i glitter. Possiamo mischiare più colori oppure utilizzare un colore solo. E continuiamo così per tutto il foglio. E continuiamo a ripassarlo. una volta asciutto facciamo questa magia piegiamo il foglio scrolliamo bene 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 ed ecco il risultato finale grazie a tutti